Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista del Sole 24 ore. Buonasera, ben arrivato Luca Iosi, imprenditore, giornalista, esperto del settore della comunicazione, quindi intanto ci diamo del tu, visto che siamo comunque colleghi. Alessandro Giulie, ciao, bentornato, presidente del Maxi di Roma e buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora, Giorgia Meloni oggi si è occupata ovviamente della tragedia in Turchia, poi di cyber security, del PNRR, dopo aver tenuto tenacemente il punto sul caso Donzelli del Mastro. Quindi tutto dimenticato e l'opposizione ne esce schiantata subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Lina Palmerini, allora oggi la premia Giorgia Meloni si è occupata della tragedia in Turchia, di cyber security, di PNRR e dopo che per una settimana si è però anche dovuta occupare del caso Donzelli del Mastro. Mal volentieri secondo me. Mal volentieri, ma ne esce brillantemente, è tutto dimenticato, adesso si è voltato pagina anche perché ieri c'è stato il super comizio qui a Roma per il candidato del centrodestra Rocca alle regionali. Ricordiamolo che tra sei giorni ci saranno le elezioni in Lombardia e anche nel Lazio. Tutto a posto. Ma secondo me ne è uscita esattamente come ne era entrata in questa vicenda Donzelli del Mastro. Nel senso che lei all'inizio non ha risposto, poi ha accennato questo appello all'unità. Lei è stata un po' nel dilemma di come interpretare il suo ruolo, cioè se assumere un tono più istituzionale da premier oppure da capopartito. E' stata nel dilemma, ma alla fine secondo me è stata risucchiata dalla campagna elettorale. Ha scelto decisamente i toni del capopartito, che da un certo punto di vista è comprensibile, perché per un politico il primo in vivere è superare brillantemente le elezioni. Quindi lei aveva anche detto che le regionali erano un test politico, sono un test politico. Quindi ha scelto i toni da capopartito. Però oggi ritorna a parlare di PNRR, di Piano Mattei, perché sa perfettamente che passate le regionali l'aspetta una maratona di un anno o cinque anni, cioè tutta la legislatura, in cui non può farsi risucchiare dalle polemiche e dai comizi di Donzelli del Mastro. Per una semplice ragione, perché lei non ha più l'elettorato che aveva prima. Prima lei aveva il 4%, adesso ha il 27%, il 30%, cioè ha una serie di nuovi, tanti nuovi elettori. E lei deve interpretare chi sono, come parlare a questi nuovi elettori. Sicuramente questi nuovi elettori non hanno alcun interesse a seguire, diciamo, i comizi, che poi durano una settimana, quattro giorni, cinque giorni. Quindi deve riportare i temi su un'agenda più lunga, per cui vivrà ancora questo dilemma di come trasformarsi in Premier e come interpretare i suoi nuovi elettori. Poi in fondo Alessandro Giulie conviene anche, no? Perché si sposta sempre il tiro, si cambia sempre il tema, l'opinione pubblica non riesce neanche bene a seguire, perché noi ci occupiamo delle vicende politiche nei dettagli. Oppure che cosa resta? Alla fine è a ragione Lina Palmerini quando dice che Giorgio Meloni ha scelto di fare il capopartito. Tutte e due le cose. Il che ha una virtù e un limite sostanziale nella situazione politica. Cioè si è un po' biloccata. Ha il dovere di governare e di assumere una posa e trasmettere dei contenuti istituzionali e questo le viene riconosciuto anche dalla stampa internazionale, le viene riconosciute dagli interlocutori delle cancellerie europee. Al tempo stesso è anche un capopartito e deve far valere la voce di capopartito. Osservo che dopo la lettera al Corriere della Sera, in cui sostanzialmente chiedeva anzitutto al proprio mondo di abbassare i toni, si è sostanzialmente presa su di sé, si è caricata tutto il peso, anche comunicativo, da capopartito, della gestione un po' confusa, possiamo dire, un po' rumorosa, dell'affaire cospito dentro Fratelli d'Italia e dentro il governo. Però è tornata a essere appunto la Meloni d'attacco. In campagna elettorale si fa così, però l'idea è che sono io che parlo. Se qualcuno può esporsi e alzare un po' la voce, lo faccio io che so farlo e voi state tutti a cuccia adesso. Questo mi sembra il senso dell'operazione. Luca Iosi, sei d'accordo? Ti interpello anche da, non solo da giornalista, che si è sempre occupato di politica, ma anche da imprenditore nel settore della comunicazione. Diciamo, perché poi uno dice, ma però vi occupate sempre di Giorgia Meloni, e come facciamo a non occuparcene, visto che lei si occupa di questo paese tutti i giorni, in modo molto vocale, e si occupa di noi, si occupa di governare questo paese, esterna molto anche. Cosa rimane dopo questa settimana di putiferio sul caso Donzelli del Mastro? Gli italiani cosa hanno capito di 41 bis del PD che va a trovare cospito, poi però parla con i boss mafiosi, anche perché alla fine Giorgia Meloni è riuscito a ribaltare tutto questo contro l'opposizione, no? La bandiera dell'antimafia, chi è che ce l'ha adesso? Era sempre stata della sinistra, adesso ce l'ha la destra. Tante domande. Ti ringrazio dalla fiducia, ma se riuscissi a capire che cosa pensa l'opinione pubblica, fatico già io a capire che cosa ne penso io di questa vicenda. E tu cosa hai capito? Suppongo che non l'abbiano cercata, sicuramente, anche perché sarebbe quasi folle, perché in questo momento credo che gli italiani abbiano la vista più rivolta all'aria fredda in casa che a queste piazze calde. Il tema è importantissimo, ma di fronte a un imminente scontro elettorale molto rilevante in due piazze molto rilevanti, questo non lo vedo un tema capace di accendere la massa dell'elettorato. Quando poi tu dici... Però continua a salire nei sondaggi, Giorgio Melone, no? Sì, ma se stiamo parlando della vicenda 41 bis e soprattutto del punto finale della tua domanda rispetto alle polemiche sull'antimafia, ecco, mi viene anche così da pensare che con 30 anni di ritardo poi stia anche nascendo una voglia di rileggere anche certi momenti della cultura antimafia, perché giustamente c'è una parte del paese che può incominciare a dire che alcuni martiri del Pantheon presi mano militari da una parte politica forse non facevano parte solo di quel Pantheon o affatto. Ma pensi a Falcone Borsellino? A chi pensi? Non due nomi a caso, due nomi apicali di questa storia dell'antimafia. Uno, realmente mano militari Borsellino trasportato e nucleato dalla sua storia scomparsa e diventato un elemento di un Pantheon a sinistra. L'altro, Falcone, chiamato a Roma da un ministro socialista in un momento in cui a Palermo da quella sinistra che poi verrà a riscoprirlo e a idolatrarlo non era certamente amato come avverrà poi nei 30 anni successivi. Con Giorgia Menoni che è entrata in politica come racconta nella sua autobiografia in varie interviste proprio per quello shock provocato dagli attentati e dalla morte di Falcone Borsellino. Quello è stato comunque un punto fondativo anche nell'identità della generazione Atreiu cioè di questa destra così diversa da quella di vent'anni fa, trent'anni fa. Andrea Scanzi fatto sta che oggi un sondaggio pubblicato dalla stampa rivela che gli italiani sono divisi circa la metà. Pensa che il principale problema di tutta questa vicenda 41 bis, Cospito, Donzelli del Mastro sia in realtà che la visita a Cospito l'abbiano fatta i quattro parlamentari del PD. Quindi c'è un ribaltamento di tutti i fatti oppure ha giocato male le sue carte l'opposizione, le ha giocate meglio la maggioranza di governo in particolare poi anche Giorgia Meloni. Di cosa siamo stati a discutere per una settimana? Erano temi importanti e sono temi importanti? Siamo stati a discutere di una cosa molto grave che evidentemente non tutti gli italiani hanno reputato così grave come la reputo io e qualcuno in studio. Intanto è abbastanza normale che la maggioranza degli italiani come dice il sondaggio della stampa la pensi come centrodestra visto che il centrodestra ha vinto le elezioni quindi c'è evidentemente una correlazione anche nello specifico su quello che pensa il centrodestra soprattutto la destra e quello che pensa la maggioranza degli elettori quindi la maggioranza degli italiani. Poi secondo me è molto improbabile che un elettore tipo di Fratelli d'Italia resti infastidito dai toni di Donzelli. Io resto infastidito. Un elettore di Fratelli d'Italia magari la ritiene anche una sorta di rivendicazione culturale e dice bravo Donzelli gliene ha dette quattro a quelli del Partito Democratico e quindi anche per questo non c'è stato Il dato di fatto Andrea Scanzi è che Giorgia Meloni ne esce più forte e l'opposizione il PD in particolar modo ne esce abbastanza a pezzi. Ci sarei arrivato allora sì che la Meloni ne esca più forte non lo so la Meloni non perde voti dopodiché abbiamo scoperto che gli italiani hanno anzitutto come primo intento nello specifico sapere che cospito resti in galera e resti col 41 bis e questo lo pensano anche i 5 Stelle quindi non è che lo pensi soltanto alla destra. Sicuramente la propaganda di destra è stata molto furba a spostare l'attenzione quando noi leggiamo ieri il titolo del giornale che dice cospito leader dell'opposizione è ovvio che stiamo leggendo un grande una grande forzatura ma è altrettanto ovvio che qualcuno ci crede a quella forzatura in tutto questo c'è un elemento debole chi è? Guarda un po' che novità il Partito Democratico che non ha sbagliato secondo me ad andare a visitare quattro par... anzi non quattro un carcerato nello specifico cospito per motivi umanitari per sapere come stesse è legittimo sacrosanto anche doveroso ma dov'è che ha sbagliato? Intanto nella comunicazione perché non lo ha detto e ha aspettato che lo scoprisse Donzelli via del Mastro poi sono andati a visitare cospito ma già che c'erano ha parlato anche con i mafiosi perché gli era detto cospito loro hanno detto ormai eravamo lì gli abbiamo rivolto la parola ma non si fa così ma soprattutto il Partito Democratico tanto per cambiare si mostra ambiguo nelle vicende di rimenti voi l'avete capito se il Partito Democratico su cospito vuole confermare il 41 bis oppure no se io ascolto la Seracchiani dico sì vogliono confermarlo se io ascolto Orlando che lo ha ripetuto anche sei giorni fa in quello studio e che lo ha ripetuto anche via social lui lo vorrebbe togliere allora è ovvio che anche di fronte a qualcosa che secondo me è stato grave da un punto di vista di stortura istituzionale se dall'altra parte c'è un'opposizione che inciampa che balbetta che non sa comunicare la destra che è più furba in queste cose veicola una comunicazione diversa e fa passare per grave i quattro parlamentari del PD mentre Donzelli tutto sommate è uno che ha sbagliato i toni non ha sbagliato i toni ha sbagliato tutto ha sbagliato tutto Donzelli ha sbagliato tutto del Mastro ma se dall'altra parte c'è un'opposizione che sbaglia tanto evidentemente presta il fianco a quella maggioranza che è furba nello sviare l'attenzione è una sciagura per tutti se posso è una sciagura per tutti perché su certi temi la politica in particolare i principali partiti devono dare delle risposte chiare e unitari evitare di azzuffarsi quando c'è in questione la mafia ma la zuffa chi l'ha sollevata perché come sempre l'ho detto già chi ha cominciato ha fatto Donzelli però l'ho detto non si sentiva bene l'ultima volta ma l'ho detto l'ho detto chi ha iniziato la zuffa dopotutto credo che la stessa Meloni abbia riconosciuto che c'è stato qualcosa di più che una leggerezza in quel tono e in quell'assalto quindi questa cosa già l'ho detta chi ha cominciato si sa ha cominciato in Parlamento l'onorevole Donzelli il punto vero però adesso è riconoscere che è una questione da cui tutti secondo me sono usciti un po' danneggiati al di là di chi l'ha usata meglio o peggio dal punto di vista comunicativo cioè ci sono degli indicatori economici che non sono così negativi in questo momento per l'Italia pensate anche al report di Confindustria cioè ci sono delle cose su cui il governo potrebbe investire in comunicazione eppure si è trovato a dover amministrare un pasticcio aggravato come ha ben spiegato Scanzi dal PD che potrebbe non essere finito perché c'è la procura di Roma c'è la procura di Roma che sta indagando se ci sia stata una violazione o no dei punto doveri d'ufficio cioè se quelle notizie effettivamente erano riservate oppure no cioè non è finita la questione però appunto adesso dovremmo esortare noi ma dovrebbero esortarsi da soli i politici a darsi una calmata realmente e a lasciare che il giuri e la procura seguono dei protocolli a sei giorni a sei giorni dalle regionali vediamo cosa succederà nelle prossime ore anche la storia del PD ma il PD non sappiamo neanche che cos'è ha iniziato un percorso che è lunghissimo di voto agli iscritti poi di primarie cioè il PD ha l'anarchia dentro nel senso che non c'è un leader ci sono quattro candidati alle primarie e due in particolare che sono quasi antitetici per cui già si sente che se vince l'uno un pezzo di PD se ne va se vince l'altro se ne va un altro pezzo quindi voglio dire anche questo attacco al PD è stato gratuito a chi ha giovato tanto le opposizioni adesso vanno alle regionali divisi quindi è una vittoria talmente facile andare con un avversario che è diviso insomma non penso abbia giovato alla Meloni io continuo a dire che l'unica cosa che porta la forza alla Meloni è se sceglie le elezioni e anche le elezioni amministrative Luca Iosi che problema ha questo partito democratico che dovrebbe rappresentare il centro-sinistra in Italia un problema di leadership di comunicazione un problema di anarchia come la chiama la Palmerini che problema e che cosa deve fare per rinascere rilanciarsi risorgere allora se avesse un solo problema sarebbe già a buon punto se avessi la soluzione magari non mi candiderei di persona ma candiderei qualcuno a guidare quell'area io prima di essere stato giornalista ho fatto politica è stato l'ultimo dei craxiani con orgoglio dico io sono nato socialista tra socialisti ho continuato a vivere da socialista mi auguro di morire da socialista e sono molto colpito che dopo 30 anni dalla nostra anche autodistruzione perché abbiamo contribuito fortemente a non difenderci oggi nel dibattito di quell'area che è l'unica che mi interessa perché oggi constato che a destra la destra è organizzata e ha trovato una leadership e invece sono sconcertato del vedere il vuoto pneumatico che esiste oltre quel fronte ma perché secondo me il PD ha un problema proprio con le leadership cioè non c'è l'accettazione del leader il PD rifiuta l'idea di avere un leader le correnti esistono per questo per indebolire la figura del leader cioè loro non vogliono un numero uno ma tanti numeri uno Luca Iosi se tendenzialmente le leadership non si cercano per concorso per quanto complesso concorso possa essere ma si impongono per carisma naturale mi colpisce che tra in questa arca di noè di intelligenze da trent'anni ci siano due parole che nel supermercato della politica dal punto di vista sia semantico che dal punto di vista strutturale sono assenti e sono cristiano e socialista cioè come se in un supermercato di idee e ideologie tu trovassi tutte le merendine di ogni tipo e tutte le bibite più astratte e mancassero il pane e l'acqua queste due parole non perché siano parole evocative per il sottoscritto ma perché sono due parole fondanti fondative nella cultura occidentale e noi le abbiamo smarrite e in quest'arco di trent'anni ho visto un'estrazione di una lotteria di qualunque nome simbolo log botanico sfiorando le fantasie più grottesche e oggi ci si ritrova dopo questo lunghissimo giro che potrei anche definire inutile con una gran parte di classe dirigente ex classe dirigente che mi sembra non aver ancora trovato il coraggio per fare una cosa molto semplice nella vita ritirarsi nessuno indispensabile e il gesto di sapersi ritirare e togliersi di fronte a un fallimento è una prova di maturità che consente come in natura a forze nuove di riuscire a rinascere è difficile vasto program qui Andrea Scanzi perché è vero che poi in questo paese nessuno chi si dimette chi si ritira anche davanti alle sconfitte è davvero questo il problema del partito democratico perché ricordiamo che le regionali che si terranno tra sei giorni lo certificano il centro-sinistra avrebbe potuto vincere se unito sia in Lombardia che nel Lazio ma siccome Conte è leader dei Cinque Stelle e che ha almeno un leader il movimento e quelli del PD che non ce l'hanno insomma non sono riusciti a trovare nessun accordo quindi Scanzi quindi innegabilmente c'è un problema del non volerti ritirare questo è verissimo quello che avete detto è chiaro che nel momento in cui scusa Andrea naturalmente in Lombardia PD e Cinque Stelle hanno trovato un accordo ma non sono riuscite ad allargare il fronte con Letizia Moratti che li avrebbe fatti vincere in una regione che è da decenni leghista e di destra ma è che il PD sia gatto pardesco che sia fatto di dirigenti che non vogliono andarsene non vogliono abbandonare la poltrone che si aggrappano a qualsiasi nuovo presunto nuovo leader è un dato di fatto basta vedere a tutti quelli che stanno salendo sul carro del Vincitone presunto è probabile Bonacci dopodiché secondo me le prossime amministrative dicono plasticamente come sta il centrodestra e come sta il centrosinistra il problema del centrodestra a oggi Giulio lo sa molto bene è quello di vincere troppo cioè la paura che ha la Meloni è quella di stravincere così tanto da mettere in discussione la leadership di Salvini laddove prendesse troppi più voti di Salvini della Lega in Lombardia e di vincere troppo il Lazio al punto tale di avere tre o quattro volte i voti sommati insieme di forze Italia e della Lega quindi la Meloni vincerà stravincerà e ha paura di vincere troppo pensate come sono messi bene nel centrodestra di contro nel centrosinistra nel caso specifico del Partito Democratico c'è un'alleanza in Lombardia c'è un'altra alleanza nel Lazio a tutto quello che avete detto che ha detto Palmerini che ha detto il collega io aggiungo una cosa scusate se insisto non si può dare per assodato il fatto che o vince una che ha un'I Schleiner per cui sposterebbe l'asse il baricentro verso sinistra e quindi verso un'alleanza con gente come Fratoianni Bersani Conte e dall'altra parte uno come Bonaccini che legittimamente ha un'idea totalmente opposta c'è nello stesso partito al netto della leadership al netto delle correnti che ci sono da tutte le parti tu non puoi non aver capito dopo 15 anni dalla tua nascita cosa vuoi fare non è che sì io sto con Calendo oppure sto con Conte ma è come dire io preferisco il mare preferisco la montagna sono antitetici e questo è un altro problema legato non solo alla leadership ma a cosa vuole fare da grande prima sentivo dire manca il concetto socialista cristiano tutto vero ma manca anche il concetto lavoratori proletariato società civile che idea ha in mente il partito democratico perché Bonaccini vuol dire credere in un certo motto Schleiner vuol dire credere in un altro se tu non sei chiaro se tu non sai comunicare se tu non sai cosa fare da grande vivacchi sopravvivi le elezioni non le vinci mai stai al governo senza avere mai vinta mezza elezione è questo che ancora non ha capito il partito democratico Luca Iosi ma tu tra i due chi sceglieresti Elie Schlein o Stefano Bonaccini? non sono chiamato a scegliere sì ma chi ti sembra chi ti sembra più adatto in questa fase politica? non sono competente su quell'area e non mi ci ritrovo e il fatto che io non penso di rappresentare è una cultura minoritaria del paese che abito e non mi ritrovo in nessuna delle due espressioni perché le trovo corte di esperienza rispetto al mondo che vogliono rappresentare ma molto corte ma corte per quello se vuoi della nuova linfa giovani loro hanno anche poca esperienza se è in quel senso lì quindi insomma è un po' senza via d'uscita non lo so secondo me il tema centrale del PD resta l'accettazione cioè non sono in grado di sostenere il peso di un leader e di riconoscerlo oggi la linea politica non la fanno le discussioni cioè la linea politica la interpreta e la esprime la comunica agli elettori un leader questa è la regola politica contemporanea il problema è che nel PD da quando è nato hanno sistematicamente indebolito le leadership non si diceva Luca Iosi le leadership si impongono non c'è un concorso benissimo quando è successo però alla prima occasione hanno cercato di far fuori il leader questo è il punto che non accettano una regola della politica contemporanea e riguardo alla questione del ritirarsi ma non è un problema soltanto del PD voglio dire ma Forza Italia è in declino eppure Berlusconi sta lì è passato dal 30% all'8% e Berlusconi sta lì Salvini Salvini ha perso le elezioni lo possiamo dire le ha perse e nessuno gliene ha chiesto conto adesso vediamo come va in Lombardia ma in Lombardia Fratelli d'Italia già a settembre ha doppiato l'ha doppiata la Lega quindi siamo lì il tema sono le discussioni ma soprattutto che senso ha mettere su un meccanismo così complicato come le primarie per dare una legittimazione al leader e il giorno dopo cominciare a parlare di scissioni perché gli altri non si riconoscono in quella linea politica questo è il rapido perché poi ho un tema di strettissima attualità alla fine rischia di essere noioso che è peggio che divisivo che è peggio che litigioso quando diventa noiosa una procedura così importante come un congresso con allegate primarie significa che è stato gestito in modo terrificante tutto il meccanismo allora il tema di strettissima attualità la scorsa settimana si è discusso tantissimo anche dell'intervento della partecipazione del presidente ucraino Sielensky al festival di Sanremo bene oggi sappiamo che lui non parteciperà più manderà un testo che verrà letto dal conduttore del festival Amadeus allora è tutto risolto anche qui Andrea Scanzi abbiamo scherzato abbiamo ancora una volta perso tempo o era comunque poco opportuno che partecipasse il presidente Sielensky a un festival canoro abbiamo perso tempo è tutto tragicomico non è stato risolto niente era un errore invitarlo è un errore leggere il contenuto della sua lettera ma non perché non vada letto Sielensky perché non c'entra niente col festival di Sanremo è francamente l'idea di Amadeus che ha appena presentato non lo so chi diciamo Gianni Morandi poi improvvisamente si trasforma in Sielensky legge tipo Gasman il monologo di Sielensky poi torna e presenta Paolo Echiara ma che roba è? ma stiamo parlando di guerra stiamo parlando di una tragedia non è il contenitore giusto quindi questa è la classica toppa non dico peggiore del buco ma brutta come il buco è così Luca Iose non aveva a questo punto la Rai neanche un'altra via d'uscita perché in fondo Sielensky è intervenuto al festival di Cannes è intervenuto in altri contesti diciamo più leggeri chiamiamolo così io ero e sono favorevole a quell'intervento perché il festival di Sanremo è il programma non solo più visto in Italia ma anche il programma italiano più visto in Russia e quindi quando si dice che non bisogna mandare le armi all'Ucraina ma bisogna trattare con altri indefiniti mezzi e portare la Russia alla trattativa con altri mezzi da definirsi allora mi viene da pensare bene voi vi ritirate dall'Ucraina e noi il prossimo anno ritiriamo l'intervento di Sielensky da Sanremo Zina Palmerini no per me questa scelta di far leggere il messaggio ad Amadeus è già l'ammissione di un errore perché che senso ha un messaggio di Sielensky senza Sielensky cioè la potenza del messaggio la incarna Sielensky con la sua mimetica o con la sua faccia cioè farla leggere Amadeus è una cosa diciamo che secondo me è l'ammissione di un errore una marcia indietro a metà io avevo detto e ripeto che secondo me non sarebbe convenuto a Sielensky esporsi o sovraesporsi in quel modo per il rischio di strumentalizzazioni e onde d'urto di ritorno dopodiché è singolare in effetti che invece di esserci Sielensky ci sia un messaggio cioè mi sembra una correzione a ribasso abbastanza incomprensibile cioè non lo so ci sarà una grandissima strategia dietro io sostengo che è meglio sbagliare bene che far bene così così se uno deve sbagliare ma soprattutto se c'è una propaganda allora la propaganda deve funzionare e secondo me senza Sielensky non funziona sì è un po' un pasticcio all'italiana forse non lo so tanto poi lo vedremo nei prossimi giorni abbiamo parlato di giustizia oggi tra i tanti temi ecco in questo ambito sapete che si è discusso molto della questione delle intercettazioni è lì che ci porta il punto di Paolo Pagliaro guardate per sapere cosa pensa l'opinione pubblica delle intercettazioni Demopolis propone un sondaggio che dà esiti abbastanza netti oltre due terzi degli italiani il 68% ritengono che non sarebbe opportuno porre dei limiti all'uso delle intercettazioni nelle indagini giudiziarie meno di un quarto sarebbe invece favorevole a una limitazione l'istituto diretto da Pietrovento ha chiesto per quali reati andrebbe mantenuto il ricorso alle intercettazioni telefoniche 9 intervistati su 10 ritengono lo strumento imprescindibile per mafia e terrorismo l'81% degli italiani lo considera determinante anche per le indagini sulla corruzione 2 su 3 lo manterrebbero per una serie di altri reati gravi gli italiani sono invece più divisi sull'opportunità che le intercettazioni vengano rese pubbliche il 24% vorrebbe il divieto assoluto della pubblicazione sui media per tutelare la privacy anche degli indagati opposto il parere del 18% che non porrebbe alcun limite alla libertà di stampa ma la posizione prevalente ed ampiamente maggioritaria è quella del 58% convinto che la diffusione delle intercettazioni debba restare consentita ma con il divieto di pubblicare le conversazioni che riguardano persone o fatti non legati al reato favorevoli alla diffusione delle intercettazioni ma con dei limiti sono gli elettori di tutti i principali partiti ma oltre un terzo di chi vota Lega o Fratelli d'Italia propende invece per un divieto assoluto siamo in chiusura grazie Elina Palmerini grazie Luca Iosi grazie Alessandro Giuli grazie Andrea Scanzi grazie spettatrici spettatori vi lascio Alicia Colò e alla nuova edizione del suo Eden un pianeta da salvare quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti